Una problematica di larga diffusione nella popolazione civile è il problema dell'incontinenza urinaria. Che cos'è l'incontinenza urinaria? L'incontinenza urinaria è la perdita involontaria delle urine, cioè vuol dire che un paziente, e questo è un concetto che è importante stressare per i nostri telespettatori, è una perdita involontaria non assimilabile al concetto di urgenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che un paziente che ha urgenza di andare in bagno perché se no gli scappa la pipì ha quella che noi definiamo urgenza minzionale, mentre invece l'incontinenza è una perdita involontaria, cioè è una mancata sensazione di stimolo minzionale che si traduce nella perdita delle urine. La incontinenza urinaria più conosciuta è quella che colpisce il sesso femminile. Può essere anche in età giovanile a partire dal quarantesimo anno di età ed è una problematica assolutamente rilevante dal punto di vista sociale, perché voi capite che queste donne sono costrette all'uso dei pannoloni e quindi oltre un impatto farmaco-economico a livello nazionale sulla spesa sanitaria c'è anche quello che può essere un problema sociale legato alla qualità di vita della paziente, qualità di vita che è legata al fatto che la paziente ovviamente dovendo portare questi pannoloni ha delle difficoltà a livello di attività sessuale, a livello di attività sociale, necessità e paura soprattutto di sentire odori cattivi, di relazionarsi con persone e quant'altro. Per cui l'incontinenza urinaria è una condizione che va in qualche modo trattata. Esistono delle terapie sia di carattere farmacologico che di carattere funzionale che possono essere utilizzate, però fondamentalmente esistono delle terapie chirurgiche, oggi tra l'altro di carattere mini-invasivo che possono essere svolte con periodi di agenza molto brevi e con interventi in cui il paziente ha una ripresa delle sue attività sociali e lavorative estremamente ridotto. A questo punto si tratta di interventi che vengono eseguiti, le cosiddette sling, che vengono eseguiti con una, ripeto, degenza estremamente breve e che danno dei risultati in termini di efficacia estremamente opportuni. Presso la nostra clinica urologica dell'Università degli Studi di Catania noi eseguiamo questi interventi così come eseguiamo gli interventi sull'incontinenza urinaria maschile. Incontinenza urinaria maschile che è un fenomeno certamente meno diffuso rispetto a quello femminile ma altrettanto importante. In genere l'incontinenza urinaria maschile è secondaria a un cattivo esito di un intervento eseguito sulla patologia prostatica, soprattutto su quella di carattere oncologico. Si tratta di interventi di prostatectomie radicali i quali i pazienti rimangono incontinenti a distanza di tempo. Un'incontinenza transitoria è assolutamente giustificabile. L'incontinenza permanente oltre i 18 mesi da distanza dall'intervento invece va corretta. In genere la correzione è chirurgica. Ultimamente presso la nostra struttura abbiamo deciso di eseguire degli interventi con un particolare dispositivo definito Atoms che è una sorta di fionda che viene posta a livello uretrale e che riesce a riportare il paziente a una continenza completa. Per cui quando un paziente ha eseguito un intervento di prostatectomie radicale, sono passati i canonici sei mesi in cui in genere si ha una minima perdita involontaria delle urine e permane questo stato di incontinenza che affligge dal punto di vista della qualità della vita molto il nostro paziente, può rivolgersi presso la nostra struttura o comunque presso le divisioni di urologia e troverà la possibilità di porre rimedio al suo disagio con l'impianto in particolare, ripeto, di questi dispositivi che sono delle vere e proprie fionde uretrali che sostengono l'uretra e permettono al paziente di non perdere più. Questo, capite bene, è un problema che una volta risolto dà al paziente un enorme miglioramento in termini di qualità di vita, un paziente soprattutto oncologico che già ha tra virgolette la preoccupazione della sua malattia tumorale.